Abusivi e spacciatori in bella vista sul lungomare, ma non solo, a due passi dalle famiglie e dai ragazzi. A Salerno si torna a parlare dello spettacolo offerto nel salotto Vista Mare della Città, specialmente ora che la Lega ha annunciato una nuova passeggiata per la sicurezza contro il dilagare dell'illegalità. I sostenitori di Salvini sono pronti a bissare l'iniziativa dello scorso anno, una sorta di ronda diurna per sensibilizzare l'amministrazione e le istituzioni, spiegano i promotori, a tenere alta la guardia contro la criminalità. L'evento però ha già scatenato tensioni e polemiche, i centri sociali sono pronti ad iniziative di contrasto. Il timore concreto è che l'iniziativa possa degenerare. Allerta massima dunque per l'evento, annunciato per la metà di settembre. Intanto, a proposito di spaccio, prostituzione e vendita abusiva di oggetti nel centro di Salerno e non solo, il questore Maurizio Ficarra ha annunciato il piano di contrasto avviato già da inizio estate e che andrà avanti anche nei prossimi mesi. Obiettivo? Tenere alta l'attenzione sui temi della legalità. Sono fenomeni gravi, seri, non dico permanenti, ma soprattutto il centro sud è pervaso da questi comportamenti. Ma noi qui a Salerno, guardate, abbiamo fatto delle cose veramente incredibili. Sono tre, quattro mesi che noi ci dedichiamo pienamente a questa attività, al contrasto della vendita, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla prostituzione, al commercio abusivo ambulante, cui lei faceva riferimento. Vi invito a consultare il nostro sito web della Questura di Salerno per vedere giorno per giorno tutto quello che noi facciamo. Io mi ritengo moderatamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora. La guardia resta chiaramente alta. Certamente, quello non ci piove.